Un po' di amarezza che svanisce, una battaglia ancora lunga perché io devo essere assolto e porto l'appello argomento, quella è stata una giustizia senza limiti che mi ferisce nella mia vita quotidiana, per oggi sono soddisfatto perché sono mesi e mesi in cui io sto governando questa città migliorandola con tanta pratica, tanta passione, tante energie con questa spada di damo che è sulla testa che non c'è stabilità, quindi veramente credo che con oggi siamo ancora più forti da un punto di vista istituzionale, Napoli scrive una pagina importante di diritto, di politica, di istituzione e la magistratura nel suo complesso tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria dimostra coerenza e ragionevolezza nell'aver affrontato il rapporto tra la legge Severino, i diritti dei cittadini, il diritto di un candidato, la sovranità popolare, mi sembra che la giustizia prevalga sulla legalità formale. Adesso questo può essere un precedente anche per la questione del gruppo. Come ho detto prima i casi sono molto diversi, nella mia vicenda non esisteva la Severino quando mi sono candidato, mentre lui ha fatto sostanzialmente la campagna elettorale con il tema della Severino, ci sono dei punti di contatto che ovviamente sono il fatto che si parla della stessa legge, di una condanna di primo grado, seppur per fatti compliversi, nel mio caso un abuso di ufficio non patrimoniale, per fatti di magistrato e non di amministratore locali, le differenze sono tante. Mettiamola in questo modo, è un pronunciato, un precedente, facciamo giurisprudenza che può essere utile ad altri casi come quello di Enzo De Luca, ma non vedo veramente nessun tipo di equiparazione giuridica e istituzionale e ovviamente nemmeno il tipo politico. Una delle differenze può essere che perde Luca, la potatura dello Stato? No, no, però ognuno c'è, allora l'ho detto in conferenza Stato, i procedimenti sono personali, questo è il processo di Luigi De Magistris. Poi se altri vogliono leggersi le carte, attingono argomenti che possono essere utili ai loro procedimenti è un conto, ma non possiamo fare una traslazione di giudici, non possiamo spostare il caso De Magistris alla vicenda De Luca, sono due cose completamente diverse, poi De Luca saprà difendersi e saprà trovare le argomentazioni che gli ritiene in modo migliore, io sono molto soddisfatto e voglio ringraziare gli avvocati che sono stati straordinari sul piano della competenza e dell'equilibrio, sia perché hanno fatto ricorsi magnifici dal punto di vista giuridico, anche perché difendere Luigi De Magistris è molto complicato, molto complicato perché io dico sempre quello che penso e dire quello che uno pensa in questo paese è pericoso, basta vedere quello che ho detto in conferenza Stato, siccome io poi ai miei avvocati non ho la capacità di pagarli, questo mi rende ancora più, mi crea un senso di colpa perché li faccio lavorare, certe volte è un legame affettivo, di amore, di amicizia che ci accompagnerà per sempre, hanno sposato una causa, io ho sposato loro e staremo sempre insieme. Io ho decisissimo di mani entusiasmo, è chiaro, sono contento, l'entusiasmo è eccessivo ma molto contento. Però è vero che la tutta è successiva è terminata, certo, dimmi che finire, il 25 settembre c'è il processo penale, cominciamo a dare quest'altra notizia che forse la data non era stata data, il 25 settembre c'è il processo penale, il corto d'appello, il 20 ottobre c'è la corte costituzionale, il 23 ottobre continua il processo civile per cui oggi c'è stato il provvedimento cautelare, quindi la strada non è finita, è una lunga corsa giudiziaria che ci accompagnerà alla campagna elettorale del 2016 dove io conto di vincere nuovamente perché oggi mi sento ancora più carico di Eri. Senato Patrano sentire poi la restituzione parlare di sistema maggio, c'è qualcuno che lo fa apposta che mette il passione in casa dentro, perché incontravercela con il sindaco, incontravercela con il sindaco. Ma è vero tutto spesso e non è da adesso, io da quando vivo nelle istituzioni, da quando ho fatto il magistrato ad essere il sindaco che ho sempre detto, documentato il livello di infiltrazioni mafiose e del livello di corruzione che c'è nel sistema istituzionale politico e continuerò a farlo. Cioè questo è il mio impegno, la mia missione da l'uomo delle istituzioni. Io credo nelle istituzioni perché so che ci sono donne e uomini serie, valide e preparate, quindi questa è la mia battaglia. La storia della Severino è equiparata alla vicenda del caso De Magistris ed è qui che mi ha detto che è strano quando è stata formulata questa norma, lei contestualmente difendeva proprio quel processo incredibile che ha portato la mia condanna in primo grado e poi veniva scritta questa legge che il guarda caso è stata applicata al mio fronte. Cioè io sumo la storia della Severino è equiparata alla vicenda del caso De Magistris ed è curioso che quel tipo di norma che non doveva essere prevista secondo la volontà del Parlamento e per questo c'è il profilo anche di incostituzionalità, viene inserita proprio nel momento in cui la Severino difende Prodi in quel processo clamoroso in cui io sono stato condannato in primo grado solamente perché ho usato a indagare sul sistema politico affaristico criminale acquisito tabulati i parlamentari che evidentemente è un delitto di lesa maestà nel nostro paese e contestualmente mentre io da pubblico ministero diventavo imputato e mi dovevo difendere mentre cercavo di difendermi in quel processo, io ero convinto che doveva essere assolto, la Severino che difendeva una controparte scriveva la Ministra della Giustizia con la norma, poi tutto può succedere nel nostro paese, è successo pure che Mastella faceva il Ministro della Giustizia il cui nome c'era nell'inchiesta Why Not e che era stato nominato a Romano Prodi che era indagato nel processo Why Not e che chiede il trasferimento del PM che indaga sul presente del Consiglio che l'ha nominato e su quel Ministro dell'intercettazione è stato nel processo Why Not e sono stato io che sono stato trasferito, questo è un paese dove il normale diventa sovversivo e quello che dovrebbe essere la persona su cui si fanno indagini che poi magari verrà assolto e diventa la normalità del nostro paese e magari scrive anche le leggi e costruisce la legalità formale, siamo veramente alla sovversione delle regole migliori di una democrazia. Grazie a tutti.